La crisi è rientrata, noi abbiamo perso dei pezzi importanti. È tornato il sereno sul comune di Cinque Frondi, o almeno così pare. Negli ultimi dieci giorni la vita politica del piccolo centro della Piana è stata investita da una crisi che ha visto prima il sindaco Michele Conia presentare le dimissioni, poi ritirarle in seguito ad un'assemblea pubblica dove la comunità ha chiesto a gran voce al primo cittadino di restare seduto al proprio posto. Quel calore mi ha fatto molto riflettere. Il momento più difficile però è stata la revoca di Giuseppe Longo dalla carica di vice sindaco. Il vice sindaco avrebbe avuto il dovere di stare a fianco del sindaco in tutta una serie di questioni delicate. Lui per esempio in questa stanza è centrata pochissimo. Longo nel frattempo ha costituito un nuovo gruppo consigliare chiamato autonomamente, insieme all'ex assessore Gabriella Valentino. Abbiamo preso atto di questa estromissione, è logico che non potevamo rimanere nello stesso gruppo se siamo stati cacciati. La mia decisione al Partito Democratico è una scelta di politica nazionale e che nulla avrebbe cambiato rispetto ai rapporti all'interno della maggioranza. Adesso Cinque Frondi ha ancora il suo sindaco, ma ha un nuovo vice, Rocco Foriglio, e tre nuovi assessori. Già da Poretta alla Cultura, Flavio Severo e Loria al Commercio e Tributi e Roberta Manfrida alle politiche sociali. La rinascita continua? Per il momento, Angela Panzera per la CNews24.